carissimi fratelli carissime sorelle pace del signore dio benedica la vostra vita oggi 16 aprile sono le sette del mattino leggiamo insieme nell'antico testamento vi voglio chiedere di aprire le vostre bibbie nel libro del profeta isaia al capitolo 64 leggeremo il verso 4 mai si è erudito dice il profeta mai orecchio aveva sentito dire mai occhio aveva visto che un altro dio all'infuori di te agisse in favore di chi spera in lui innanzitutto isaia proclama una verità straordinaria e cioè che c'è una differenza tra l'iddio della bibbia l'iddio che ha creato il cielo e la terra e gli altri dei e questo è dovuto al fatto che egli agisce e agisce in favore di quelli che sperano in lui ci sono tanti dei in questo mondo tanti idoli hanno occhi è vero non vedono mentre l'iddio di israele l'iddio della bibbia ha occhio e vede hanno mani sì vero ma non possono toccare nulla non possono stenderle su nessuno ma l'iddio di israele l'iddio della bibbia l'iddio che ha creato il cielo e la terra ancora oggi stende la sua mano potente la sua mano benefica su coloro che sperano in lui ed essi godono di quella che la sua potenza che si manifesta nella loro vita è vero gli idoli di questo mondo hanno orecchie certo sono anche ben artisticamente raffigurate ma ahimè questi dei rimangono sordi si può gridare come facevano i profeti di bal su monte carmelo dalla mattina fino alla sera ci si possono fare incisioni addosso si può danzare si può saltare ma il fuoco non scende ma l'iddio di israele l'iddio che ha creato il cielo e la terra dinanzi alla preghiera di elia e dinanzi alla preghiera di ogni uomo e donna timorato di lui di ogni uomo e donna che spera in lui egli opera ed agisce per il bene di quell'uomo e di quella donna nel tempo che lui ha stabilito ma egli opera e agisce e sia ben eletto il signore cari perché se abbiamo conosciuto il vero dio non quello che frutto delle tradizioni umane ma quello che viene manifestato e rivelato nelle sacre scritture siamo degli uomini veramente privilegiati e questo naturalmente è un motivo per rimanere fermi nella fede per continuare a sperare nel signore e per ricordare all'anima nostra tu hai un dio che opera un dio che agisce e allora non puoi e non devi essere disperata o anima perché il tuo dio è un dio diverso dagli dei di queste nazioni quindi la diversità di dio ma anche l'idio che opera dicevamo quindi un dio che si muove in favore di quelli che sperano in lui ed è quello che possiamo sperimentare ancora oggi laddove ci riuniamo di pari sentimento nel nome del signore in spirito possiamo avvertire la presenza di dio e quando il signore è presente in un luogo beh cari può avvenire di tutto c'è chi possono recuperare la vista muti tornare a parlare sordi tornare o dire e questo non soltanto in termini spirituali ma anche proprio in termini fisici di guarigioni di liberazioni potenti che il signore compie addirittura persone che sono morte possono tornare in vita perché non c'è nulla che sia difficile per signi per il signore non c'è nulla che a lui sia impossibile allora proprio perché abbiamo un dio così grande cari preghiamo 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 con fiducia bussiamo ripetutamente perché ci verrà aperto perché il nostro dio ode ode il bussare alla porta ode e vede al di là di quella porta la condizione in cui noi ci troviamo ed egli desidera poter operare nella nostra vita però è necessario come abbiamo letto che noi speriamo in lui il problema di tante persone che zoppicano dai due lati nel senso che si affidano un po al signore un po agli uomini ripongono la loro fiducia un po nell'eterno ma nello stesso tempo si mettono al sicuro riponendo fiducia nei potenti di questo mondo che dio ci dia grazie dobbiamo fare una scelta in che vogliamo confidare nell'uomo in dio che dio ci aiuti a confidare soltanto in lui poi certo dio si può servire degli uomini per poterci aiutare per venire incontro alle nostre richieste ma sia lui a farlo e non noi sia lui a spingerci ma non noi di nostra iniziativa perché noi vogliamo che la gloria vada sempre solo ed esclusivamente al signore e vogliamo credere che al signore non è nulla difficile egli non ha bisogno degli uomini per poter agire lo può fare benissimo da solo ma se si dovesse servire degli uomini sia glorificato in nome del signore e allora in questo nuovo giorno che si sta presentando davanti a noi forse verranno dei momenti in cui avremo bisogno bisogni di diversa natura beh cari vogliamo dire all'anima nostra non ti sgomentare non ti paurire non ti lasciar prendere dal panico confida nel signore riponi la tua sorte nel signore perché egli sarà colui che aggirà abbiamo questa fiducia perché veramente dio è vivente non è un dio che è frutto delle raffigurazioni e delle fantasie umane è un dio che ci ha fatti con le sue stesse mani che ci ha talmente amati da dare il suo unigenito figlio per la nostra salvezza e se egli dice l'apostolo paolo i romani c'erati il suo figlio non ci darà tutte le altre cose di cui abbiamo di bisogno sì cari aspettiamo aspettiamo l'intervento del signore aspettiamolo con pazienza perché poi delle volte il problema risiede proprio in questo siccome noi abbiamo fretta di vedere la risposta di dio e siccome dio non agisce nel tempo da noi stabiliti vogliamo forzare la mano e vogliamo usare via alternative per raggiungere i nostri scopi quello che fece sarà allora quando dio aveva promesso di dare un figlio ad abbramo e disse ad abbramo forse il signore te loterà tramite la tua serva e così nacque ismaele no cari dio non agisce in questo modo dio agisce secondo le sue promesse e nei tempi che lui ha stabiliti è inutile andare da agar non serve a nulla se non a creare problemi continuiamo a guardare al signore perché al tempo debito egli interverrà aggirà ad opererà e allora non faremo altro che dire signore grazie perché ancora una volta tu mi hai stupito e forse avverrà quello che paolo dice agli efesini che dio ci darà al di là di quello che abbiamo domandato o pensato coraggio forse delle volte il cammino è duro ma dio è un dio che interviene in favore di quelli che confido nel lui pace del signore dio ci benedica insieme